Tutto pronto per stasera, quando durante la nuova diretta del GFVIP si eleggerà finalmente il primo finalista. L'appuntamento è su canale 5 alle 21.40 e Alfonso Signorini ha preparato sicuramente una. Puntata succosa, visto che dall'ultima diretta è trascorsa una settimana. Il pubblico da casa sta ancora votando il preferito che merita di andare in finale tra Davide, Manila, Katia ed Elia. Un televoto che non è stato gradito a parte degli spettatori, che si sono trovati in difficoltà nella scelta. Stanotte però è successo qualcosa che ha cambiato le sorti di questo televoto. Il testa a testa era tra la Duran e Silvestri, ma pare che uno dei due abbia clamorosamente toppato poche ore fa, facendo scendere vertiginosamente il suo indice di gradimento. Cosa è successo nel dettaglio? È successo tutto in cucina, ed è successo tutto per colpa del cibo. Davide Silvestri è colpevole, secondo il parere del pubblico, di non aver preparato la solita pizza a parte per Jessica, affetta da celiachia. Come è noto, i celiaci devono assumere esclusivamente alimenti senza glutine, che il GF fornisce alla principessa Selassie. Questo brutto gesto di Davide, che ha preparato la pizza solo per il gruppo, escludendo la Selassie, ha fatto infuriare gli spettatori. A poche ore dalla chiusura del televoto, molti utenti sui social cambiano rotta per il loro voto che slitta su Delia Duran anziché premiare Davide. L'attore sarebbe quindi stato penalizzato proprio da questo atteggiamento che è sembrato voler escludere Jessica. La candidata per la finale nei sondaggi è attualmente la Duran. Vedremo stasera se i sondaggi sanciranno la sua vittoria.